Ciao a tutti amici sportivi e benvenuti in questa nuova rubrica targata tutto fantacalcio che vi dirà per ogni giornata quali sono le possibili sorprese e giocatori più o meno in forma Partiamo quindi con la prima sfida in programma Cagliari-Udinese, il Cagliari, sorpresa Cigarini, consigliato Barella e sconsigliato Ionita Udinese, sorpresa Iacto, consigliato Lasagna e sconsigliato Balic Chievo-Torino, per il Chievo, sorpresa Stepinski, consigliato Castro, sconsigliato Tomovic Per il Torino, sorpresa Baselli, consigliato Belotti e sconsigliato Moretti Genoa-Crotone, per il Genoa, sorpresa Lapadula, consigliato L'Axalt, sconsigliato Bessa Per il Crotone, sorpresa Ricci, consigliato Trotta, sconsigliato Sampirisi Atalanta-Inter, per l'Atalanta, sorpresa Derun, consigliato Cristante, sconsigliato Adebur Per l'Inter, sorpresa Perisic, consigliato Icardi, sconsigliato Gagliardini Fiorentina-Spal, per la Fiorentina, sorpresa Simeone, consigliato Chiesa, sconsigliato Laurini Per la Spal, sorpresa Paloschi, consigliato Antenucci, sconsigliato Vicari Bologna-Elas Verona, per il Bologna, sorpresa Di Francesco, consigliato Palassio, sconsigliato Mbaie Per l'Elas Verona, sorpresa Verde, consigliato Romulo, sconsigliato Supraien E andiamo verso una delle super sfide di questa giornata Milan-Napoli, per il Milan, sorpresa Kalinic, consigliato Suso, sconsigliato Zapata Per il Napoli, sorpresa Amsic, consigliato Mertens, consigliato Maggio Sassuolo-Benevento, per il Sassuolo, sorpresa Acerbi, consigliato Politano, sconsigliato Lemos Per il Benevento, sorpresa Guierme, consigliato Diabatè, sconsigliato Tosca Juventus-Sampdoria, per la Juventus, sorpresa Pjanic, consigliato Dybala, sconsigliato Lixainer Per la Sampdoria, sorpresa Torreira, consigliato Zapata, sconsigliato Sala E chiude questa giornata il Mega Derby della Capitale Lazio-Roma, per la Lazio, sorpresa Milinkovic-Savic, consigliato Immobile, sconsigliato Luis Felipe Per la Roma, sorpresa Cic, consigliato Dzeko, sconsigliato Pellegrini Ebbene amici sportivi, questo era tutto per questa giornata Questi erano i nostri consigli Per tutte le informazioni sui giocatori appena citati Potete andare sul sito www.tuttofantacalcio.it Un bacione, alla prossima e in bocca al lupo a tutti!